Si è conclusa la 74esima edizione del GAD con il Festival d'Arte Drammatica che nella cerimonia di premiazione al Teatro Sperimentale ha incoronato Kraken, favola alla deriva, come spettacolo vincitore. All'opera di Patrick Quintal, nell'allestimento della compagnia Teatro dei Dio Scuri di Campagna in provincia di Salerno, va infatti il premio Arlecchino 2021. Kraken però è stata premiata anche con azzurra Liliano e Emiliano Piemonte in qualità di miglior attrice e miglior attore giovane del Festival. A vincere invece come miglior attore caratterista è stato Luca Napodano per Stravaganza. Il premio Don Gaudiano, assegnato dalla giuria giovani, è andato a Smith & Wesson di Alessandro Baricco, il premio Arnaldo Ninchi di gradimento al pubblico a questi fantasmi, il riconoscimento Ivo Scherpiani a miglior attore per Alfonso Forte in Ubu Re, il riconoscimento Eva Franchi a miglior attrice per Patrizia Miggiano in Edipo Re. E ancora il premio Antonio Conti alla miglior regia è stato assegnato a Michele Masullo e Beppe Colella per Tre sull'Altalena. Premiata per i migliori costumi la compagnia teatrale Satirion, miglior scenografia Stefano Merlo per la locomotiva, Ubu Re vince infine il premio Miglior Videoclip offerto proprio da Rossini TV. Siamo molto soddisfatti della qualità soprattutto, del clima, della partecipazione e della stima che hanno dimostrato tutti nei confronti di questa iniziativa, di questo festival. È un festival importante che onora la città di Pesaro e ce la mettiamo tutte affinché questo possa essere sempre più uno dei fiori all'occhiello di questa città. Nonostante comunque le difficoltà del periodo e le difficoltà dell'associazione che ha comunque vissuto un momento anche di transizione, di cambiamento e con tempi molto costretti perché poi la selezione è stata potuta fare solo a fine estate, a fine agosto, causa i problemi Covid e quindi in poco tempo siamo riusciti a organizzare un'edizione veramente bella. E la cosa che mi piace più dire è che i complimenti più sinceri non sono quelli che ci facciamo da soli ovviamente ma quelli del sorriso delle compagnie, il piacere delle compagnie di essere ospiti del nostro festival, un piacere che non è solo quello di salire sul palcoscenico ma quello di essere ospiti e questo ci rende molto orgogliosi di un territorio veramente ricco e che devo dire guardano tutto con grande invidia. E questo vuole essere anche uno stimolo forse per noi pesaresi a guardare con più orgoglio a quello che siamo in grado di offrire perché il punto d'osservazione del festival ci dice che l'Italia guarda Pesaro veramente con grande ammirazione per quanto riguarda l'offerta culturale.